Oggi presentiamo le principali sigillatrici twist band che vengono utilizzate in genere per la chiusura di panettoni prodotti da forno e prodotti alimentari. Cos'è e perché utilizziamo il twist? La chiusura con sigilli twist band è caratterizzata da un filo metallico rivestito da materiale plastico. Questo permette di chiudere in sicurezza i prodotti potendoli riaprire quante volte si vuole. Il filo twist delle sigillatrici esiste con diametro 0,4 ma anche 0,53 e 0,58 mm. Su prodotti leggeri è consigliato usare il filo 0,4 mm ma per avere maggiore tenuta ad esempio su prodotti pesanti si sceglie il filo 0,53 mm o 0,58 mm. Le bobine twist band si presentano in diverse colorazioni per quelli con anima metallica come ad esempio rosso o verde anche se in realtà la più usata è quella color oro. Esiste inoltre una bobina senza anima metallica per i metal detector. Ecco quindi tre modelli di macchine differenti. La prima è una sigillatrice elettrica la twist SE 120 che utilizza il filo con diametro dell'anima metallica da 0,44 mm. Il filo è presente in varie colorazioni. Questa macchina ha un diametro di legatura standard di 12,5 mm e la lunghezza del filo è fissa. La seconda è una sigillatrice elettrica la twist master pro che utilizza un filo con diametro dell'anima di 0,4 mm ma di questa sono presenti altri modelli che utilizzano bobine con diametro dell'anima 0,53 e 0,58 mm. È una sigillatrice che esiste sia verticale che e orizzontale come in questo caso. È presente nella parte superiore un display che ci permette di controllare e cambiare diversi parametri tra i quali la lunghezza del filo consigliata tra 80 e 100 in base allo spessore del sacchetto e il numero di avvolgimenti intorno al sacchetto. di questa sono presenti diversi modelli con un diametro di legatura differente ovvero da 5 a 30 mm, da 15 a 45, da 20 a 55 e da 40 a 80 mm. La terza macchina è una sigillatrice pneumatica, esiste solo il modello verticale, utilizza il filo con diametro dell'anima 0,53 mm e 0,58 mm. La lunghezza del filo è fissa e anche di questa abbiamo diversi modelli con diametro di legatura differente, nonché 11 mm, 28 mm e 38 mm. Essendo questa una macchina pneumatica richiede un compressore esterno e viene utilizzata generalmente per chiudere materiali più resistenti e per alte produzioni continuative. Per tutti e tra i tipi di macchina è possibile aggiungere un piano d'appoggio frontale per facilitare l'operazione con sacchi pesanti e di grosse dimensioni.